Don Giovanni De Classati, femmine caste impure, servi autoritari. Nel mogliere immaginario che Ivan Bellavista porterà in scena al teatro dell'orologio dal 7 al 18 gennaio prossimo, tutto si ribalta e tutto si rimette a posto, nella maniera sbagliata, che poi è quella giusta. Il ragionamento è contorto, ma fa parte della PS, che punta a disorientare, confondere e sorprendere. Bellavista del resto è a piano titolo uno dei rappresentanti più evidenti dell'avanguardia romana. Il ruento è sperimentale, non ha paura di sporcarsi le mani, di mettersi in discussione, di osare. Il riferimento è Don Giovanni di Molière, appunto, completamente dissacrato, a cominciare dall'ambientazione, spostata in un talk show televisivo, poi in un processo, e poi da questo processo usciamo dai nostri personaggi, diventiamo noi attori che ci giudichiamo l'uno con l'altro, poi da attori diventiamo anche spettatori dello spettacolo che stiamo vedendo, criticandolo, ritornandoci dentro. Comunque sì, è uno spettacolo che non ha un vero e proprio senso. Reduce dai successi riscossi in tutto il mondo con lo spettacolo Fratto X, insieme ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Bellavista nel mogliere immaginario ribalta il blasone dei personaggi, rimescola le carte del destino distribuendole sul tappeto verde del palcoscenico. E allora Don Giovanni diventa un miserabile, Elvira una donna tutt'altro che ingenua e Sgararello un servo che comanda. Sullo sfondo la televisione con i tic e le miserie della realtà e dei reality e il pubblico, spettatore colpevole chiamato alle armi. Lo spettacolo è bello, noi siamo bravi, io sono bravo, Sandra Conti e Matteo di Gironomo sono più bravi di me. Beh, certo, venite a vedere lo spettacolo, ma se poi avete qualcosa di più importante da fare, non vi preoccupate, cioè noi capiamo, lo rifaremo, ma non vi scapicollate. Però se non avete niente di meglio da fare, venite, si trova parcheggio, vi divertite. È uno spettacolo dove non succederà nulla di serio, però nello stesso momento si parla di tragico e nel tragico si ride. Il mogliere immaginario, scritto, diretto e interpretato da Ivan Bellavista, insieme a Sandra Conti e Matteo di Gironomo, sarà in scena al Teatro dell'Orologio dal 7 al 18 gennaio prossimo.